Musica Amici di Antena Sud, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di Tempo al Tempo. Vediamo insieme la situazione generale di mercoledì 13 giugno. L'alta pressione continua a garantire tempo spiccatamente stabile e soleggiato su tutto il comparto sud orientale dello stivale. Ed ecco più nel dettaglio la situazione della Puglia. In Puglia bel tempo con cieli sereni per l'intera giornata su tutta la regione. Spazio come sempre anche alle previsioni per Basilicata e Molise. In Basilicata bel tempo con cieli sereni per tutta la giornata. In Molise al mattino sulle coste soleggiato con poche nubi. In montagna bel tempo con cieli sereni che si estenderà al resto della regione nel pomeriggio. Infine la situazione di temperature, venti e mari. Temperature in aumento con valori massimi diurni superiori ai 30 gradi centigradi specie sulle pianure e valli interne. Venti moderati occidentali in rinforzo a fine giornata dai quadranti settentrionali, mari poco mossi, tendenti a mossi. Bene, per ora è tutto con le nostre previsioni. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio in buona compagnia con i programmi di Antenna Sud. Arrivederci. A presto. A presto. Vi ringrazio per essere stati con noi. A presto. A presto. A presto. A presto.